Quindi la risurrezione di Gesù non ci lascia indifferenti, noi siamo legati in tutto e per tutto alla morte di Cristo, morire in Cristo per risorgere in Lui. E Gesù quale comportamento ha verso i suoi discepoli? Visita i discepoli, le piedonne che sono chiuse nel cenacolo per paura degli ebrei e mostra le sue mani, i suoi piedi. Ma il Vangelo ci dice che Gesù chiede di mangiare e quindi gli danno del pesce superato alla loro cena e del pane e Gesù si siede e mangia. Possiamo immaginare con quale stupore, con quale attenzione i discepoli stanno lì a guardare come Gesù mangia, perché per loro Gesù era morto e Gesù mangia e allora è veramente risorto. E Gesù si presenta risorto con le prerogative del corpo risorto, non è risorto con il corpo, è il medesimo corpo di prima, ma non con le debolezze del corpo di prima. Quindi, mentre prima era sottoposto alla febbre, alla malattia, alla stanchezza, al sudore, eccetera, adesso è un corpo glorioso e ha altre prerogative, le proprie prerogative del corpo glorioso. E quindi l'impassibilità non è più sottoposto alle sofferenze del corpo umano, come è per ciascuno di noi. Abbiamo ancora la sottigliezza, cioè come Gesù è entrato nel cenacolo, ha bussato chi è andato ad aprire la porta, niente di tutto questo. Gesù è entrato attraverso le pareti, senza bisogno di ostacoli, è entrato e sta in mezzo ad essi. Quindi la prerogative di entrare in qualsiasi luogo sempre, diciamo, attento a compiere la sua missione. L'agilità da una parte si trova all'altra. Noi sappiamo che Gesù dice agli Apostoli andate in Galilea e io vi precederò. Come è andato Gesù? È andato. Voglio andare in Galilea e si trova in Galilea, mentre gli Apostoli devono fare il tragitto o con i cammelli o a piedi, il tragitto di trasferimento verso la Galilea. E poi la chiarezza, cioè il corpo glorioso è bello, è bellissimo, è attraente e questa è stata l'immagine del corpo risorto di Gesù. La risurrezione di Gesù esclude quella che è stata per Lazzaro, il figlio della vedova di Naim, che erano morti, risorgono e più che dire risorgono, ritornano in vita e continuano a vivere pur essendo nel corpo come prima e quindi dedito al lavoro, alla sofferenza, al bisogno di mangiare eccetera. Tutte cose che per Gesù risorto non esistono perché egli ha il corpo glorioso. Cristo è risorto immortale, cioè non muore più. Ha finito la sua sofferenza, adesso deve soltanto aspettare noi che compiamo il nostro cammino verso la Patria Celesta. San Paolo chiarisce ancora meglio questo pensiero e dice trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Immessi in Cristo e in modo particolare mediante il Santo Battesimo siamo innestati in Cristo e quindi figli di Dio, eredi di Gesù Cristo, diritto alla Patria Celeste. La scomparsa delle estimate di Padre Pio ci danno una pallida luce di quello che è la nostra sofferenza fisica che scompare con la morte. Padre Pio muore senza le estimate, il segno della risurrezione della carne e quindi del nostro corpo mortale.